La città di Lucca è pronta a ricucire, ospitando una nuova edizione del Festival del Volontariato. La festa della solidarietà si svolgerà ancora una volta in Piazza Napoleone e proporrà nei giorni 10, 11 e 12 maggio 70 iniziative fra convegni, laboratori, dimostrazioni e attività di animazione. Tutte sotto il titolo di ricucire, riferito ai legami e alla coesione sociale. L'evento è stato presentato nella sede del Centro Nazionale per il Volontariato dal presidente del CNV Pier Giorgio Liccheri e da quello della Fondazione Volontariato e Partecipazione Alessandro Bianchini, alla presenza del Sindaco di Lucca Alessandro Tambellini e delle curatrici del Festival della Risata, Erika Citti ed Elisa D'Agostino. Il Festival del Volontariato è organizzato con il sostegno di diverse realtà, fra cui la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e il CESVOT e conta sulla partecipazione di numerose realtà a livello nazionale e locale. Tra le personalità ospiti di questa edizione, il prete fondatore e presidente della comunità Progetto Sud in Calabria, Giacomo Panizza, il responsabile dell'area nazionale di Caritas, Francesco Marsico, e il medico di Lampedusa, Pietro Bartolo. In programma la consueta staffetta della solidarietà, che partirà a venerdì 10 da Lido di Camaiore, e la marcia dei volontari domenica pomeriggio. Il flash mob Ricucire col Sorriso è in programma sabato alle 13. I volontari del servizio civile con l'associazione Ridolina riempiranno Piazza Napoleone e creeranno un ponte con il Festival della Risata, che si svolge negli stessi giorni e che vedrà ospite il comico Raul Cremona. Ci sarà anche un percorso di protezione civile organizzato dal coordinamento delle associazioni, che sarà allestito sul lato di via Vittorio Veneto.